E' imbarazzante la risposta che arriva oggi dal governo di Regione Abruzzo. Sulle barriere architettoniche una legge del 2008 che non trova spazio e che utilizza una serie di condizionali che raccontano il disastro in una condizione assurda sui territori. Oggi di annunzi ci dice che abbiamo autobus e treni pronti a trasportare le persone da una fermata all'altra, da una pensione all'altra, ma che poi all'interno di quelle che sono i nostri comuni, i nostri centri storici, i nostri istituti, i nostri uffici non hanno la possibilità di muoversi. Piani e abbattimenti di barriere architettoniche che dovrebbero trovare le risorse della Regione che li dà pioggia senza poi verificare e controllare quello che realmente accade. E' un tema che noi stressiamo da tempo, l'abbiamo stressato già attraverso una proposta di legge, attraverso mozioni e con questa templanza oggi chiediamo la verifica della condizione attuale di Regione Abruzzo. E le risposte che arrivano purtroppo sono vergognose. Dal 2008 a oggi non è stato fatto nulla e questo governo alla fine della legislatura ha fatto ancora meno di quanto è stato fatto prima.